Sì, purtroppo sì, quindi purtroppo sì, stata la prima vittima e questo è... Anche se noi stiamo resistendo, perché veramente è al secondo posto, fino a ieri è al secondo posto per quanto riguarda, diciamo, la negatività dei risultati, quindi siamo in quelli che isernia prima e noi veniamo secondi, però ci possiamo salvare solo così, ripeto, se stiamo a casa, perché noi abbiamo un vantaggio, le nostre popolazioni hanno meno contagio, perché sono molto più diradate, quindi la provincia, eccetera, anche la città, molto più diradate, invece dove c'è maggiore afflusso, come gravi nelle comunità alte, e purtroppo questo accade. Il sottoscritto, avendo attivato meccanismi, che io ho richiamato le forze di polizia e quelle locali in particolare, la mia polizia locale, ad essere intransigenti, perché soltanto con l'intransigenza si riesce a vincere. Io non vorrei dare, come dire, bastoni, non mi piacciono neanche le carote, insomma, però dovremmo autolimitarci, limitarci, fare le cose con un senso di responsabilità. Se uno è ammalato e sta in casa, se piove sta in casa, e dobbiamo stare, sta piovendo, siamo malati, siamo convalescenti, dobbiamo stare dentro casa per questa ragione, quindi nessuno vada a fare le cene con gli amici, lo dico a quelle recontrate, perché quando mi dicono i controlli, ma come faccio a fare i controlli? Lo sapete che Benevento è una città con 130 km quadrati, sapete quando ne fa Napoli? 119. Come facciamo a controllare tutti? Non ci stanno varchi per controllare tutti, poi peraltro abbiamo impiegato anche risorse per aprire varchi, per chiudeli, anzi, aprire e chiudeli, nella zona di Ariane, quelli che vengono a Benevento, perché là c'è il focolaio, quindi dobbiamo stare là, non possiamo occuparci di combattere contro un nemico di là e poi ci stanno quelli che ci combatta alle spalle, è una cosa sleale, è una slealtà di comportamento non accettabile assolutamente, quindi abbiamo senso di responsabilità ognuno di noi. Ma io chiederò al Vescovo di fare una grande manifestazione, innanzitutto la sto chiedendo, pure stasera mi pare che ci sia una cosa in cui tutte le fedi religiose, ho chiesto a tutte le fedi religiose anche oggi pregare ognuno secondo le proprie convinzioni e pregando lo stesso Dio evidentemente che intervenga tutti noi, ma noi abbiamo questa caratteristica particolare, a Benevento ho visto la storia, la tradizione di coloro i quali ci hanno presciuto nella vita e nella città che durante il periodo della pestilenza, durante il periodo di alluvione o quanto altro, terremoto, la Manola di Grazie usciva dopo questa vicenda, esce poche volte, ha fatto soltanto credo una o due volte in maniera, diciamo, saltando i canoni tradizionali, è una grande processione in cui partecipassimo tutti di riconoscenza, di grazie, spero che questa grazia e questa riconoscenza possiamo darla debitamente e pregare anche un po' di quei Beneventari per chi ha fede evidentemente come me non è male.